Ciao, io sono Tommaso e oggi impariamo ad esportare un'immagine in alta risoluzione direttamente da DaVinci Resolve. Entriamo subito nel programma nella pagina Edit per farvi vedere di cosa stiamo parlando. Eccoci qui e qui abbiamo un clip che ho girato con il drone da corsa e voglio andare a grabbare, quindi a prendere un frame da questa sequenza. Possiamo andare a vedere qui la qualità dell'immagine Timeline Resolution 3840x2160. Quindi andremo a tirare fuori un'immagine da 8 megapixel, 3840x2160 in questo caso. Se invece avessimo ad esempio una timeline da 1920x1080 andremo a recuperare un'immagine da 2 megapixel. Allora, rimaniamo sul 4K e vediamo cosa ci interessa andare a esportare. Mi interessa questa qua, quindi su questo punto qui. Per andare ad esportare l'immagine basterà semplicemente spostarsi sulla tab Color, una volta che abbiamo deciso qual è il punto esatto, cliccare con il pulsante destro sopra all'immagine e dire Grab Still. Automaticamente sulla parte sinistra dello schermo, quindi all'interno della nostra gallery, avremo la nostra prima still. Se non la vedete è perché qua in alto dovrete andare a cliccare proprio su Gallery, perché magari avete le LUTs piuttosto che la Media Pool attivata. Andate su Gallery e all'interno di Steels 1 troverete la vostra still. Attenzione che in realtà il computer la visualizza come un video intero, ma è semplicemente perché è legato ad un discorso di videoproduzioni. Noi abbiamo scelto di prendere quella still in quell'esatto momento in cui sulla sezione Edit abbiamo posizionato la Playhead. Quindi andiamo sopra la nostra still, diamo pulsante destro, andiamo a dire Export, in questo caso decidiamo dove andare ad inserirla e la chiameremo FPV Flight e gli dobbiamo dire che tipologia di file vogliamo andare ad esportare. Se vogliamo poi anche andare a ritoccarlo con programmi di postproduzione, possiamo ad esempio prenderci un bel PNG file e gli diamo Export. Ok, in questo caso abbiamo nella nostra pagina di download FPV Flight, vedete che si sono creati due file, un DRX che servirà da vincere sold nell'eventualità la still venga utilizzata ad esempio per fare delle color correction legate nell'ambito video e il nostro file in PNG che, eccolo qui, aperto. Vediamo le dimensioni, questo schermo è un 4K quindi già intuiamo che aprendo l'immagine in anteprima la qualità è appunto dei 4K. Andiamo a controllare quale risoluzione c'è all'interno della nostra clip e vedete che il formato è un PNG e la risoluzione è di 3840x2160 a 24 bit. È stato velocissimo, spero che vi sia piaciuto questo tutorial, se vi interessano questi tutorial ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina perché nelle prossime settimane ne usciranno sempre di più. Ricordatevi che sul mio sito internet www.tommasocodolo.com c'è una sezione corsi dedicata da Vinci Resolve dove potete scaricare sia corsi gratuiti che anche corsi completi di tutto il programma a pagamento. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo settimana prossima con il prossimo video. Ciao! Psst, psst, se andate sul sito per comprare i corsi c'è un codice sconto inserite CHIEDILO A TOMMY e avrete 50 euro di sconto sul download del pacchetto completo. Ciao!